No, non così! Non è così facile! Non è così facile! Ma cosa ti credi di sistemare tutto con quel coso? Mi riempiti di te e tutto passa! Non è così! Non capisci niente perché voi uomini non capite mai niente! Ma niente! Non si sistema così! Amore, ma quale amore? Fatto di che cosa? No, perché voi con quello pensate, con quello ragionate, quella è la nostra forza, quella è la nostra bandiera! Ma non è così! Non è così! Lo so che forse è fuori moda parlare di buona fede e di fiducia, ma queste cose esistono, sai? Senza questo tutto il resto non conta, tutto il resto non serve niente! Grazie! 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 Grazie!